Parliamo dei tappetini della vostra macchina Cricut, perché vi servono e come farli durare il più a lungo possibile. I tappetini per macchine sono importanti perché tengono il materiale in posizione, in modo che la lama o la penna Cricut possano tagliare o disegnare sul materiale con estrema precisione. L'unica eccezione alla regola sono i materiali smart, che non richiedono un tappetino. Potete usare diversi formati di tappetini a seconda delle dimensioni del vostro progetto. Per Cricut Explorer 2 e Cricut Maker il tappetino standard misura 30,48 centimetri per lato, ma è disponibile anche quello da 30,48 x 60,26 centimetri, ideale per tagli più lunghi o progetti più grandi. Cricut Joy ovviamente è dotata del proprio tappetino specifico. Ci sono quattro tipi di aderenza per i tappetini per Cricut Explorer 2 e Cricut Maker. Il tappetino light grip è azzurro e si adatta meglio ai materiali più sottili, come carta per stampanti o cartoncino sottile. Il tappetino standard grip è verde ed è ideale per materiali di peso medio, come cartoncino medio, vinile e materiali per trasferimento termico. Il tappetino strong grip è viola ed è pensato per materiali più spessi, come cartoncino glitterato, ecopelle o cartone pesante. Infine il tappetino fabric grip è rosa e si adatta bene a qualsiasi tipo di tessuto. Per farne durare a lungo l'antiscivolo è bene conservare la pellicola trasparente del tappetino con cui ricoprirlo ogni volta che non lo usate. È inoltre utile tenere a portata il raschietto nel caso in cui sia necessario rimuovere eventuali residui dai tagli rimasti sul tappetino. Consiglio poi di tenere accanto a voi la spatola. Se un progetto complesso resta attaccato al tappetino ed è difficile da rimuovere, usate la spatola per staccarlo senza rovinarlo, soprattutto per i progetti con il cartoncino. Quando i materiali non aderiscono più bene al tappetino è il momento di pulirlo con acqua calda e sapone per i piatti o di sostituirlo. Spero che abbiate appreso come usare i tappetini con le macchine Cricut. Non perdetevi gli altri fantastici video creati da Cricut per continuare ad esplorare la vostra macchina e non smettere di creare.